Succede tutto per caso. Prosegue il ciclo di incontri dedicato all'ultima fattica letteraria, la seconda di una tetralogia noir, elaborata da Rocco Cosentino, sostituto procuratore distrettuale antimafia, autore per la Luigi Pellegrin Editore, con la quale aveva già pubblicato il suo primo romanzo intitolato Niente di cui pentirsi. Nella graziosa e intima cornice del wine bar Le rose al bicchiere di Reggio Calabria, l'iniziativa, organizzata qualche giorno fa dalla libreria Nuova Ave. Avvistò la partecipazione di Ettore Aversano, avvocato cassazionista, e di Tonino Nocera, pubblicista, che insieme all'autore hanno dato vita ad un incontro di battito incentrato appunto su Succede tutto per caso, un'opera innovativa e per certi versi paradossale, cui va il merito di aver voluto raccontare gli ambienti giudiziari calabresi senza epocrisia e senza falsi moralismi, e nella quale l'indagine penale diventa ben presto uno strumento di esplorazione psicologica ed etica, capace di portare alla luce le profonde contraddizioni insite nella società odierna. Dopo niente di cui pentirsi, succede tutto per caso, è la mia ultima fatica letteraria, in cui descrivo la situazione paradossale per cui alla fine, nelle vicende narrate della mia opera, chi farà veramente giustizia, nonostante siano scesi in campo magistrate, esponenti le forze dell'ordine, sarà stato paradossalmente proprio il serial killer e questo è un messaggio provocatorio che spero induca molti miei elettori a riflettere sullo stato della giustizia italiana. Avesse scritto un semplice giallo, tipo uno di quelli all'Agata Cristi, in cui alla fine il bene trionfa sempre sul male, il colpevole viene assicurato alla giustizia, secondo me sarebbe stato un qualcosa di troppo banale perché purtroppo, lo dico con la mia esperienza di sostituto procuratore, ciò non sempre accade.